Ieri ci sono state anche ulteriori indagini o comunque sono emersi ulteriori dettagli sulle vicende di Fiera, di Expo, anche lì, di Fiera in realtà, anche lì forse bisognerebbe puntare il faro e avere un'attenzione più… Il faro è puntato, la procura ci sta lavorando, il mio pensiero è che a questo punto, posto che questo consiglio di amministrazione di fatto è dimensionario, non è il mio auspicio ma è quello per cui lavorerò senza buttare la croce addosso a nessuno, ma è necessario un consiglio che sia zero politicizzato, quindi andiamo a cercare persone di qualità, affidiamo la ricerca anche a istituti esterni, Diamo un po' una svolta, poi rispetto al tema delle indagini, ci sono indagini che riguardano anche il periodo abbastanza lungo, quindi non so quanto sia la responsabilità del consiglio attuale, in ogni caso, ripeto, per me la via ed è la cosa su cui voglio discutere con il Presidente Maroni è che in questo rinnovo ci sia nel management assolutamente nessuna possibilità di politicizzazione, quindi prendiamo un manager capaci dal mercato. Grazie 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 Grazie